buona giornata quanto e come abbiamo imparato ad andare in bici una volta si usavano le rotelle oggi c'è un'altra modalità per imparare a stare in equilibrio e caso strano l'equilibrio passa attraverso che cosa non lo stare fermi ma il movimento io per stare in equilibrio devo essere in movimento e questo non è solo una legge fisica ecco là dove siamo a cominciare già appunto dalla dalla bici e dalla bicicletta ma soprattutto anche nella nostra vita cioè lo stare fermi lo stare con le mani in tasca lo stare su un divano non aiuta a trovare equilibrio non aiuta a certo che è importante avere momenti di pausa di riflessione ma quanto e come quei momenti lì non sono momenti vuoti anzi sono di una fecondità che altro che movimento altro che esperienza ecco trovare allora occasione di partire di non stare fermi in attesa ma fare in modo che questo equilibrio alla fine possa essere raggiunto perché l'ho conquistato non è solo perché mi è venuto incontro anche perché questo accade mai se non dire quasi mai il signore ti illumina e ti benedica buona giornata